Allora, ciao signori, faccio un altro video con il snacato. Andiamo con quello del gioco. Vadoci. Guarda, non c'è niente da fare tanto. Allora, vogliamo giro un pochetto a questo che ho iniziato, perché quando vengo a casa nuova e ho iniziato il gioco, perché così. Mandava di farlo, che non c'avevo voglia che... Vado oggi così a cazzo, che... Ehm... No, è un shot. Oh no. Hai, bitch. Ciao. Ehm... 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 Perfetto.... 15. Ok. Ok. Compia 500, byLe Ghi you. Oh, ehm... Vadoci mailles. Vadoci mailles. Ok. Non ha... Ok. Perfoglio 5. Però, beh, ho bisogno di ok. Perché non fa girare il video a saloper. A saloper. E non... C'è una prova di cambiare. P Peppola... Oh, non ho come. E' stoή che viai ai مش whoi 궁 stays viaggio? Come here... Come here! Ok... Ok non tu nekta. Ok. 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 Fine. Ok. 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 Io sono conosciuto un'altra cosa. No, no. Non ho conosciuto un'altra cosa. Non ho visto un'altra cosa. Perché sono famoso. Non ho visto un'altra cosa. Sono famoso. magari sapevo io così, magari sapevo io così cosa ero, ero già mi, ero già ahhh, for it look at that damage god, what did she do? whose button sucks ahhh, what's the money? chanee e poi sono i miei, miro mare, grazie a voi e me e io ... 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 Ah venga venga But did you sit first? Wait Why do I need so many fucking black tassel weapons? Click all that I'll fucking eat off Bye I'll think I'll stop avoiding it Mmm Ah 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 Các na wie addicted nada? Non, 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 non. Se la cucchiai partete comprati. grammi dalla carna. azu per questo! Zomaggi, nooo che prego, rossa cinque, ecco, metterò il PC, ma poi capirò via, non posso neanche aggiustarla, eh no, vediamo un video così a bucciare i culo, seguivo il PC, vediamo un video, vediamo un video, guardando un video, non so静ine però vediamo le liste, Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Ah, ovviamente, ma la giusca, la giusca, la giusca, la giusca, lebrego, ecco bravo, ecco, 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 ecco. L'equip em Keith attack. Stocke's dead as well. architect. Leverage. ảli divertente. Gave youa gold knife. ah. E Pierce the hammer. Er一個, you have no significanceph caloma. I kinda wanna shop for a weapon. I'm gonna shop for a weapon. I'm gonna shop for a weapon. Grazie, la città. La savanna. And the bommies? And the bommies? And the bommies? And the bommies. They're going to be laying on board. Fuck you. My god. Allora, ok? Allora, ok? Allora, ok? Allora, ok? Allora, ok? Allora, ok? Just gimme the lific spirit? I don't want to ask for much. You motherfucker. Oh, yeah. Allora, ok? Allora. I'm going to go to the end of the day. Mi piace Ora Mi piace un'coccolazione Grazie per la scuola Grazie per la vostra costellazione Grazie per la mona mmmmm mmmmm yeah, i'm that poor ahhh mmmmm mmmmm cappellino ma a venire cappellos ok, i see how it is it's gonna be a bitchkin yeah yeah i don't know no oh vicky and then it's a poor sense and then it's a poor sense i have so many lions and then it's a poor okay it's a good yeah yeah look it up wait, i don't chevaux right i might start to the c6 is very good every time i do the pirate tornado everyone gets 15% more pyro damage yeah like pyro damage and i'm gonna save up what is it? those like this yeah just in case oh 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 ora se ha un volto video can you stop this though? no ok you can make them die in the water ma c'è ma c'è l'ora io gli ho mio ai con i dei che ce l'avamo non so chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è qui Ok, 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 ok ... 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 se volete un milione, cerchiamo no, ho avuto va vai faccio più da qua, perfetto faccio il video in inglese ora sul pc però, e lo faccio con Super Mario, vai per fare un e e si e per fare un per fare un per fare un e a un un altro per fare un per fare un per fare un per fare un ok ma qua i sogni quanti sogni sono ma non 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 e e scendono un po' i sogni poi i capelli e sempre prima di andare al giorno e si grazie i sogni vai compiamola al giorno ma prendi so chi va vai ah ok posso giocare no ma ma cavo c'è anche 10 mila euro ma cos'è no c'è ma ma cavo ma vai il giorno non c'ho mai girato io qui perché è peccato qui era un bel giorno i boghi sono qui era un bel giorno il giorno di ghiaccio non c'ho mai girato non c'è un po' un po' un po' Perfetto, perfetto. E questa, perfetto. Perfetto, un barco. Usiamo. Allora, una persona. E perfetto. E' un po' che cazzo. E' un po' che cazzo? E' un po' che cazzo. Perfetto. E' un po' che cazzo. E' un po' che cazzo. A bocina. Awww, a bocina. No. Eh? Barely. Com'è qui? Oh, mi non voglio. Mi piacciono i giochi che faccio io. Cagliare un altro video. Il secondo poi basta. Il secondo bisogno lo farò io. Un giorno poi. Lo faccio a casa dove. Promesso, eh? Io lo metto sempre. Eccolo le oto. I sta olti flora in me. Eccolo le mi flex mi- Io folie. Dove mi la faccio? Mi c6. Cagliare un pocina. Eccolo le mi flaccio in me. Eccolo le mi flexi un pocina. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. è il virus, mamma mia! è il virus, il virus, mamma mia! è il virus, il virus, mamma mia! ma bene, ci vediamo, approcco il video, ci vediamo!